Musica Nella sede del Consiglio regionale della Campania ha questo interessante incontro in cui si evidenzia come la medicina si avvantaggi molto della ricerca tecnologica e l'incontro di oggi, preside e sposito, ne è sicuramente una conferma. L'ingegneria biometrica in generale, la Federico Sonda, è una grande scuola sia da un punto di vista universitario, e infatti c'è una grossa sinergia ed è quello che dovrebbe succedere ad un'azienda ospedale universitaria tra la parte degli ingegneri universitari, oggi abbiamo visto anche l'intervento del professore Amato e quella che è l'ingegneria clinica, che negli ultimi anni come azienda ha avuto uno sviluppo enorme soprattutto dettato da quelle che sono state le esigenze legate non solo al PNRR ma a quello dello sviluppo e soprattutto a una università che deve tenersi al passo dell'innovazione tecnologica e quindi c'è stato un percorso dell'ingegneria clinica che ha portato anche alla formazione di un gruppo importante di giovani capaci anche di stare al passo con l'innovazione e contribuire a quello che è lo sviluppo di un'ingegneria biometrica, un'ingegneria clinica sostanzialmente che potesse anche fare in modo che un'azienda ospedale universitaria potesse reggere il passo con le innovazioni e l'implementazione della tecnologia innovativa. Tra l'altro abbiamo capito nel corso di questo incontro che gli ingegneri clinici sono anche molto ricercati Sì, il profilo è un profilo enormemente ricercato perché si è capito che rispetto agli anni scorsi in cui l'ingegnere era considerato soprattutto una figura indispensabile nella parte degli acquisti di una tecnologia e invece oggi ci si è resi conto che la parte più importante è l'implementazione della tecnologia e soprattutto tutto quello che è lo sviluppo tecnologico legato anche agli stessi interventi quindi è venuta fuori l'esigenza di avere l'ingegneri al fianco in tutto il percorso quindi dalla parte dell'acquisizione della tecnologia alla parte dell'implementazione e anche alla parte del mantenimento e del rinnovo delle tecnologie quindi ovviamente profili del genere sono sempre profili più complessi in cui una università deve non solo averli ma deve produrre deve produrre cervelli che poi sono in grado di aiutare il paese in generale sia l'aspetto più complesso ma che insomma noi dobbiamo essere in grado di essere ovviamente come si dice diciamo in grado di appealing cioè nel senso di fare in modo che gli ingegneri per trovare la loro realizzazione professionale non debbano spostarsi e questa è la sfida forse più grande e che invece noi dobbiamo riuscire a vincere grazie